Votare al referendum è un dovere di ogni cittadino. Votare sì al referendum per dire no alle trivelle è un diritto di ognuno di noi, perché noi siamo per l'energia pulita, per la tutela dei nostri mari e delle nostre coste, per il nostro futuro e contro gli interessi dei petrolieri. E' per questo che l'Italia dei Valori, il 17, in forze, andrà a votare sì.